Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati nel vostro gioco, siamo tornati signori su un nuovo video Allora in tanti si sono chiesti o si saranno chiesti che fine ha fatto il team JKR Allora parliamo di questa cosa perché ho visto anche che Giannico ha fatto una live dove ha detto Non sono più nel team JKR ma voglio parlarvene io, ho visto che comunque sono il creatore di quel team Insieme a loro e voglio parlare io di questa cosa Spero di dire le cose nel migliore dei modi, spero che nessuno ci manca male, spero di niente Quindi volevo appunto farvi sapere quello che è accaduto con questo team e quello che andrà a succedere diciamo Qualche annetto fa ragazzi abbiamo creato questo team Un annetto fa ragazzi più o meno abbiamo creato questo team, forse qualcosina di più Dove appunto è stato in primis un team di amici, ok? È stato un gruppo di amici che appunto voleva condividere un qualcosa Io infatti ho fatto questo gruppo con tre persone che si già lavoracchiavano a livello YouTube ma non erano conosciute E quindi io comunque ho detto ma che me che cazzo mi frega se sono conosciuto o no Io mi stanno simpatici, mi ci trovo bene Perché non farci questo team e provare a fare un qualcosina? Abbiamo creato questo team e sono stracontentissimo di come sono andate le cose Nel senso che comunque ormai sono persone che sono state riconosciute su questa piattaforma e sono contentissimo Anche se meriterebbero ancora di più raga perché sono persone che meritano veramente tanto Sia da Nico che Calabres e poi Martex Martex vabbè ha avuto un successo straordinario Io sono contentissimo raga perché alla fine posso essere contento ad aver messo su una piattaforma Oppure ad aver fatto vedere a voi tre persone veramente fantastiche Che appunto sono riuscite poi aumentare di follower e comunque a farne un vero e proprio lavoro Anche se secondo me un Nico... adesso lasciamo fuori Martex che sappiamo tutti quanti ragazzi Martex In Italia è diventato un emblema di Fortnite perché comunque alla fine vi porta tutto le novità Vi porta di tutto su Fortnite e quindi è stato preso come esempio E sono contentissimo del percorso che ha fatto perché è cresciuto un bordello E veramente sono strafelicissimo per lui Altre persone quindi come Calabrese e come Nico Inter secondo me meriterebbero ancora di più Perché io vedo quanto si impegnano o che possa essere qui su YouTube o che possa essere su Twitch Ma comunque a livello lavorativamente ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno E mi dispiace che comunque non riescono a... Capitemi? A spaccare E... Cazzo... Cioè raga seguiteli Perché veramente meritano come persone Tralasciando fuori questo discorso Parliamo di quello che appunto è accaduto Per un periodo di tempo come ben sapete io ho dovuto lasciare un po' YouTube L'ho trascurato tantissimo e lì è nato tutto il mio declino Ok? Perché sono stati parecchi mesi, cinque, quattro mesi, cinque mesi Do appunto io facevo sì e no qualche video Facevo pochissime live E quindi tutto questo ha influito anche sul team Colpa mia in primis Non lo metto un dubbio perché ho avuto dei problemi familiari Dei problemi esterni che appunto non sto qua a dirvi E sono stato più appresso a queste cose che al mio lavoro E ci sta ragazzi perché sono andato appunto un po' nel declino Che questa cosa me la sto ancora portando appresso Ma mi sto riscattando quindi sono stato felicissimo Però anche con il team ci sono stati questi problemi Che appunto non mi scrivono tutti i giorni Ma già le live, le live, le live, le live Faccio ragazzi c'ho problemi, sto così, sto così, sto così E poi questa cosa è andata un pochettino a scemare Poi io sono tornato comunque attivissimo con le live Però appunto dato il loro lavoro Quindi dato il Martex che è esploso E quindi ha avuto 50 volte di più gli impegni che aveva prima Anche un Calabres e un Nico Inter Per quanto si stanno appunto impegnando su questa cosa Hanno degli orari ormai si può dire sfasati Nel senso che stanno sempre fissati appunto a fare live Il video ed è una cosa giustissima assolutamente Non riusciamo più, non siamo più riusciti a trovare Degli accordi con degli orari miei Tra parentesi perché io vado in live alla sera Dalle 9 in poi su YouTube A volte anche su Twitch Ma non siamo più riusciti a combaciare gli orari Perché chi streamava la mattina, la notte I tre giorni di fila Video, non video, usciva, cose varie Appunto non siamo più riusciti a metterci d'accordo Anche se volevamo continuare a giocare insieme Per un po', come avete visto ragazzi Non abbiamo fatto più niente insieme Però ho riaffrontato questo discorso con i ragazzi Abbiamo riparlato e abbiamo detto Cacchio raga ma riproviamoci Cioè vediamo un po', vediamo un po' Sono passati due settimane raga E non siamo riusciti a fare una live Tutte e quattro insieme Perché purtroppo chi parte per una cosa Chi fa un lavoro per un altro Io lo stesso parlo anche di me E quindi non ci siamo più con gli orari Non riusciamo a stare proprio insieme Cioè può capitare una volta faccio una live con Nico Una volta la faccio con Calabres Ma non ci siamo Cioè se deve essere un team Deve essere pieno a 360 gradi Come il team di mio fratello Per dirvi VG Stanno la sera tutti quanti insieme a live Boom, ok E quindi cosa abbiamo deciso raga? Abbiamo deciso purtroppo Ma questo, ve lo dico in primis Non andrà mai a rovinare un'amicizia Che c'è dietro il team in primis Con me, Calabres, Nico e Martex Mai Perché io quando li vedrò nelle fiere Io li abbraccio Mi li bacio Mi li porto a casa Ci facciamo i video Le cene Come abbiamo fatto E quindi se ci sarà tempo per giocare insieme E ci sentiamo su un gruppo Whatsapp che abbiamo Oh regà famose una live insieme Lo facciamo Anche se abbiamo team Anche se potremmo avere team differenti Io potrei fare un altro team Martex un altro Calabres un altro Perché ognuno si gestisce il proprio tempo Come meglio crede Quindi questo non andrà a rovinare Il nostro rapporto all'amicizia Che ci sta ragazzi E vi posso dire che sono delle splendide persone Anche se a volte abbiamo avuto un po' di discrezia Abbiamo avuto un po' di diridici Un po' di nervosismo Cose varie Ma si risolvono con un attimo Abbiamo riprovato Ma non ci siamo riusciti Quindi la miglior cosa Secondo me è stata quella appunto Secondo me ma secondo tutti Perché io Ok posso anche aver creato il team Ma io parlo sempre con loro E le decisioni si prendono in quattro Non singolo Si prendono in quattro E quindi nel parlare Abbiamo deciso tutti quanti Che è meglio dividerci Ma dividerci a livello di team Ma non a livello di amicizia Che questa è la cosa più importante Auguro ovviamente tutto il meglio Ma proprio tutto il meglio ragazzi Cioè quello che hanno adesso Lo devo moltiplicare per cento Perché io questo Mi aspetto ovviamente anche dai ragazzi Che sono soddisfatti Sono anche soddisfatti dei miei personaggi No raga Perché comunque prenderli dal niente Tra parentesi Ma non voglio discriminarli Perché per l'amor di dio Però è per far capire le persone Che io non vado a vedere i numeri Non mi interessa Come loro non hanno visto i numeri Nei miei confronti Era È Era Ed è E sarà un'amicizia sempre Stare insieme Giocare E vedere come sono cresciuti Io sono contentissimo E gli auguro il meglio Assolutamente Quindi se si creeranno un altro team Ogni persona si creerà un altro team In base ai propri esigenzi Io sono stra felicissimo E gli auguro il meglio Ragazzi veramente con il cuore in mano Quindi vi prego Nelle live O nei video Ah ma perché mi siete sciolti Ma perché così Ma perché Ve le sto dando io le spiegazioni Quindi vediamo di scrivere Sempre commenti Ma i JKR Ma Martex Ma Niko Ma Calabres Ve lo sto spiegando io ragazzi Non riusciremo a fare più un team insieme Non saremo più un team insieme Quindi ognuno potrebbe avere Un team totalmente differente Ma questo non è che appunto Fa sì che noi non siamo più amici Assolutamente O che un domani Non riusciamo a fare Di nuovo alcune live insieme Tutte a quattro Quindi chi ce lo nega Nessuno Però appunto Volevo spiegarvi questa cosa E chiudere questo discorso Del team JKR Appunto con Martex Niko Calabres e Joker Quindi non saremo più Ne quattro Il team JKR Quindi come state Sicuramente già vedendo Niko ha cambiato la tag Sicuramente lo farà anche Martex E lo farà anche Calabres Io mi sto cercando Di ricreare un nuovo team Per giocare Per provare a competere Un po' nelle squadre Per provare a competere In qualche torneo Ma in maniera molto tranquilla Cosa che penso faranno anche loro Oppure in maniera più seria Non lo so Sono cose loro ragazzi Quindi Mi ripeto Sono strafeticissimo Delle decisioni che prenderanno Mi dispiace Mi dispiace non aver portato avanti Questo progetto O per mia colpa O per colpa loro Ma non è tanto per colpa Perché nessuno ha una colpa È proprio perché adesso Non abbiamo proprio più il tempo Perché giustamente Ognuno ha il suo canale E si sta dedicando Dal 100% A quello che fa E quindi il tempo È molto molto minore Rispetto a prima Agli inizi E ci sta assolutamente Quindi vi ripeto Questa è un po' la situazione Io spero di avervi Un po' chiarito le idee E niente Voglio comunque ancora Augurare Tantissimo un bocca al lupo A questi ragazzi Perché se lo meritano Veramente tanto Quindi Martex Nico E Calabrese Quindi aiutiamoli A crescere sempre di più Ragazzi Come sicuramente dispiace a me Dispiace anche a loro Ma dispiace anche un po' a voi Perché alla fine Si è veramente Creato un gruppo D'amici Si è creato E quindi non mancheranno Altre live insieme Non mancheranno altri video Che poi arriveranno Con il tempo Quindi abbiate pazienza Quando ce ne sarà occasione Torneremo insieme A fare qualcosa Niente ragazzi Spero questo video Vi abbia un pochettino Schiarito le idee Spero questo video Vi abbia un po' Di dubbi Sul team Cose varie Ma io Quindi il team JKR Non sarà più Il team composto Da queste quattro persone Ma il team JKR Sarà composto da me E altre persone Perché io mi sto rifacendo Un nuovo team Per giocare a Fortnite O su altri giochi Ma comunque Persone che mi possono Stare appresso Con i miei orari Quello che faranno Anche Martex Niko E Calabrese Quindi ognuno Si creerà un qualcosa Attorno a se stessi Dove Possono stare più tranquilli Nello streammare E nel gestire il meglio Il proprio lavoro Spero che questo video Vi abbia tolto Tutti i dubbi Noi ci vediamo Con un prossimo video Io mi invito a passare Qua fai a campione Ragazzi Per vedere altri Due video 70 volte Nelle riviste Cliccate con C'è GKR Sì che è il canale Cliccate la campanella Per non prendere il suo video Noi ci vediamo Un prossimo momento Mando un bacione Grandissimo E un bocca al lupo A tutto quanto Il team GKR Quindi a tutti A tutti loro E spero che Riusciranno a spaccare Ancora di più Su questa piattaforma E fare il culo A tutti Quindi sono fiducioso Perché sono dei ragazzi In gamma Che meritano Veramente tanto Un bacione alla gioca ragazzi Ciao belle mia